Abbiamo visto nella precedente lezione come era inteso il concetto di potere nella filosofia e nella cultura greca antica. Ed era questo un potere in fondo ancora molto umano, molto terreno, molto limitato, condizionato e subordinato da altro, con appunto la sola eccezione del filosofo senofane che aveva proposto un'alternativa un po' più audace e innovativa. E di conseguenza proiettavano questa visione del potere anche a livello teologico e filosofico nel panteon greco e nella loro visione del divino. Con l'avvento del cristianesimo, però, vengono introdotte delle novità che permisero uno sviluppo e una comprensione più accurata del potere divino. In primo luogo, con il cristianesimo si giunse a una formulazione più rigorosa, più precisa, della nozione di trascendenza, cioè della differenza ontologica che separa, che distingue Dio dal resto dell'universo. E in questo modo Dio non è più racchiuso, non è più entro all'interno di un sistema, non è più in un certo senso un ingranaggio, per quanto alto, per quanto nobile, ma un ingranaggio all'interno del meccanismo del cosmo, come in un certo senso lo era il motore immobile aristotelico. Ma è veramente svincolato e autonomo in una sua sfera che è totalmente altra. E poi, in secondo luogo, il cristianesimo permise di arrivare al concetto di persona, ossia la visione di un Dio personale che avesse davvero quei caratteri di intelligenza, di libertà, di volontà, di consapevolezza, che sono i prerequisiti indispensabili per poter parlare anche dell'esercizio effettivo di un potere concreto, di un potere libero, di un potere consapevole, e non di un movimento necessitato e necessitante. Nel Medioevo, dunque, la riflessione sul tema dell'Annipotenza si fa decisamente più approfondito, con una discussione molto più ampia, che coinvolse, tra l'altro, un notevole numero di autori, anche illustri. In questa lezione noi ne prenderemo in considerazione soltanto uno, che è, in fondo, il più celebre, il più famoso, ossia Sant'Ommaso d'Aquino. Egli è stato, infatti, uno degli autori che ha dedicato una dissertazione straordinariamente organica, straordinariamente sistematica e precisa, molto specifica, con una sua opera che, appunto, è intitolato Depotenzia. E, però, per sintetizzare questa sua enorme trattazione, in un discorso che sia più agevole, più accessibile, ho scelto di privilegiare un aspetto particolare, privilegiare un aspetto preciso. Cioè, ho delineato un filo conduttore, una sorta di linea guida da seguire, con cui approcciare la questione. Un filo che, in qualche modo, riuscisse a sintetizzare, a riassumere efficacemente il pensiero di Tommaso, proponendolo, appunto, dandogli una continuità, dandogli, appunto, una guida. E questo aspetto, questo filo conduttore, riguarda il rapporto tra l'onnipotenza e il tempo. Proviamo a vedere in che modo Sant'Ommaso risponde a una precisa domanda, che riguarda proprio il rapporto tra l'onnipotenza e temporalità. Dio può abolire il passato, facendo sì che ciò che è avvenuto non sia mai avvenuto? Ad esempio, facendo in modo che Roma non sia mai stata fondata? E a questi interrogativi Sant'Ommaso risponde nel terzo articolo del De Potenzia, che si intitola Se le cose che siano impossibili alla natura, siano possibili a Dio. Allora, un suo interlocutore dialettico comincia subito rispondendo con un secco no. Cioè, Dio non può farlo. Ritiene, cioè, che la potenza divina sia limitata entro i confini imposti dalle leggi naturali. E di seguito, questo interlocutore dialettico di Sant'Ommaso riporta ben nove argomenti a supporto di tale posizione. Qui presenterò quelli che sono i più pregnanti, i più interessanti, i più decisivi. Partirò con l'argomento numero uno. È breve, lo leggo. Una glossa di Romani 11, 24 dice che Dio, essendo l'autore della natura, non può agire contro la natura. Ma ciò che è impossibile alla natura è contro la natura. Perciò non può essere operato da Dio. L'obiettore con questa argomentazione riprende implicitamente quell'opinione per il quale Dio non potrebbe fare nulla di diverso da ciò che fa. Il ragionamento è il seguente. Siccome Dio, che è autore della natura, ha voluto crearla dandole proprio questo ordine, questo determinato e preciso modo con cui è ordinata, e siccome ciò che Dio non vuole, non ha il potere di farlo, si deduce che Dio non ha il potere di sovvertire quell'ordine che lui stesso ha voluto, che lui stesso ha determinato all'interno del mondo naturale. Quindi non può sovvertire l'ordine naturale che lui stesso ha stabilito. Qual è la risposta data da Sant'Omaso? Sant'Omaso risponde dicendo Al primo argomento si risponde che le parole di Agostino citate nella Glossa non significano che Dio non possa fare diversamente da quanto ha fatto, poiché egli spesso opera contro il corso normale della natura, ma che tutto ciò che egli fa nelle cose non è contro natura, ma è la loro natura, poiché egli è l'autore e l'ordinatore della natura. È curioso constatare come, partendo dalle stesse premesse, cioè partendo in fondo dalla stessa constatazione di base che accetta sia Sant'Omaso che il suo interlocutore, e cioè che Dio è l'autore della natura, però i due pervengano a due conclusioni diametralmente opposte, due posizioni così tanto distanti, cioè per l'obiettore il fatto di essere autore della natura viene visto come qualcosa di vincolante per Dio, mentre invece per Tommaso d'Aquino significa al contrario essere in una condizione di superiorità e di trascendenza nei confronti del creato, che quindi lo mette in una condizione di poterlo modificare a piacimento. Questa critica viene ripresa e approfondita da Sant'Omaso all'articolo 5, sempre della prima questio del De Potenzia, che si intitola se Dio possa fare quello che non fa e tralasciare quello che fa. La signoria di Dio sul creato viene ribadita dal dottore Angelico nella seconda parte della risposta all'obiezione, in cui conclude dicendo, e leggo, Così, nelle cose naturali, noi osserviamo che quando un corpo inferiore è mosso da un corpo superiore, il movimento gli è naturale anche se non corrisponde al movimento che gli appartiene naturalmente. Così, ad esempio, il flusso e il riflusso del mare sono causati dalla Luna e questo movimento è naturale, come dice il commentatore, anche se è proprio del movimento naturale dell'acqua dirigersi verso il basso. Così, tutto ciò che Dio fa nelle creature è in esse come qualcosa di naturale e per questo motivo si distingue nelle creature una doppia potenza, una naturale che le è propria per le proprie operazioni o movimenti, l'altra detta obbedienziale a ciò che ricevono da Dio. Quindi, cosa intende dire qui Sant'Ommaso? Intende dire che ogni cosa che Dio fa, anche se viola le leggi naturali, è comunque conforme alla natura, in virtù proprio del potere obbedenziale che ha verso Dio, cioè in obbedienza all'autorità superiore di Dio. Per fare un altro esempio, un sasso è, per via della forza di gravità, è naturale che cada verso il basso, che cada a terra. Ma se io con la mia mano lo prendessi, lo raccogliessi, lo sollevassi da terra e lo appoggiassi sul tavolo, ebbene, questo movimento, per quanto considerabile, innaturale, nel senso che viola la legge naturale della forza di gravità, è comunque naturale, è conforme comunque a una legge di natura, cioè al fatto che io, il potere, in questo caso, superiore alla forza di gravità, la vinca portando il sasso dal basso verso l'alto. In altre parole, quindi, proprio perché Dio è creatore della natura, è Lui che decide cosa è naturale e cosa non lo è. E se Lui realizza qualcosa di nuovo nella natura, quel qualcosa diventa automaticamente naturale, proprio in obbedienza a Dio, che è superiore, anche se apparentemente viola le leggi normali e risulta quindi innaturale rispetto alle altre regole fisiche, alle altre norme naturali che sono inferiori, poiché, Sant'Omaso giustamente fa notare, ciò che è superiore domina su ciò che è inferiore. Alla luce di questa premessa si può ora passare ad analizzare direttamente il nucleo centrale della questione, che verte attorno al nono argomento portato dall'obiettore, dall'interlocutore dialettico di Sant'Omaso. Cioè, per dimostrare l'impossibilità da parte di Dio di operare contro natura, l'obiettore espone infatti un argomento, espone l'esempio di una donna violata che non può in alcun modo neanche per intermento divino recuperare la verginità in quanto appunto sarebbe contro natura e quindi considerato come impossibile. La scintilla che innesca tutto questo dibattito è una citazione di San Girolamo che una frase che Girolamo scrisse in una sua lettera nella quale si esprime così Mi esprimerò con audacia sebbene Dio possa tutto non potrebbe far tornare vergine una donna che non lo è più. Girolamo naturalmente l'aveva scritto in un testo con un chiaro intento morale però qui l'obiettore la estrapola dal suo contesto originario e la proferisce invece in un contesto teologico quindi dandogli una valenza teoretica sapendo appunto di averla in qualche modo estrapolata l'obiettore decide di avvalorare questa affermazione Girolamo anche attraverso due ulteriori citazioni che intendono conferirle quello spessore teoretico che altrimenti propriamente non avrebbe o che comunque sarebbe un po' improprio attribuirle e la prima citazione ricorda un passo del controfausto manicheo di Sant'Agostino ed è quella che è tra l'altro ha il valore teoretico più pregnante più decisivo mentre la seconda citazione è tratta dall'etica nicomachea di Aristotele che quindi è ancora un riferimento per certi aspetti di carattere morale etico però comunque l'autorità di Aristotele veniva sempre presentata perché era qualcosa che giocava un peso importante in una discussione e tra l'altro questa citazione di San Girolamo l'obiettore non è che semplicemente la riporta ma la usa per costruire un vero e proprio ragionamento quindi ci costruisce attorno un'argomentazione che è questa la leggo è maggiormente impossibile ciò che è impossibile in se stesso che ciò che è impossibile accidentalmente ora Dio non può fare ciò che è impossibile accidentalmente per esempio che ciò che sia stato non sia stato così Girolamo nell'Epistola Ustocchio sulla verginità dice che mentre Dio può fare varie cose non può rendere vergine una donna che è stata violata si veda anche Agostino e il filosofo quindi Dio non può fare ciò che è impossibile per sé in natura allora la condizione iniziale del ragionamento si basa su una generica enunciazione di principio cioè l'obiettore dice ciò che è impossibile in sé deve essere considerato a un livello di impossibilità maggiore rispetto a ciò che è impossibile soltanto accidentalmente per spiegare il concetto può essere utile fare ricorso ad un esempio che Socrate voli ad esempio è una cosa impossibile in sé perché gli uomini per loro natura non hanno il potere di volare aeroplani esclusi mentre invece che Socrate corra o che non corra non è un'azione impossibile in sé poiché Socrate ha il potere di correre se vuole e quindi che utilizzi o no questo suo potere è una cosa del tutto contingente postulati dunque questi due livelli di impossibilità cioè di un'impossibilità che può essere definita intrinseca e dunque necessaria e una estrinseca in quanto contingente l'obiettore prosegue il suo discorso includendo l'esempio della vercinità violata tra le e da recuperare tra le impossibilità di tipo contingente quindi abolire il passato abolire un evento ormai accaduto far sì che ciò che è stato non sia stato viene dall'obiettore annoverata tra le azioni che sono soltanto accidentalmente impossibili in quanto un evento che si è verificato in seguito a una decisione umana poteva anche non verificarsi se fosse stato deciso diversamente ed è a questo punto che l'obiettore si avvale dell'autorità di San Girolamo cosa dice l'obiettore siccome Dio non può abolire il passato considerata come un'impossibilità accidentale a maggior ragione non potrà abolire non potrà compiere qualcosa che è impossibile per sé in natura cioè non potrà compiere qualcosa che è intrinsecamente impossibile qualcosa che implica il violare le leggi naturali quindi in questo caso l'interlocutore dialettico di San Tommaso ha distinto due tipi di impossibilità una in sé e una accidentale ha incluso ha annoverato l'abolizione del passato la modifica del passato all'interno delle impossibilità considerate accidentali e citando San Girolamo ha dichiarato siccome Dio non può fare non può abolire il passato non può compiere qualcosa che è accidentalmente impossibile a maggior ragione non potrà compiere un'impossibilità di tipo intrinseco un'impossibilità che sia non soltanto accidentale ma che sia un'impossibilità appunto in sé e per rinforzare questa sua tesi vengono richiamati gli altri due autori dicevo Sant'Agostino e Aristotele il primo dei quali è proprio Sant'Agostino dal controfausto Manicheo Agostino nel nel testo dice chiunque dice se Dio è onnipotente faccia che le cose che sono state fatte non siano state fatte non si accorge che sta dicendo questo se è onnipotente faccia che le cose che sono vere siano false in virtù di ciò stesso per cui sono vere qui con Agostino viene aperto un nuovo interessante tema che pone in relazione il potere divino con il tema delle verità la verità e delle verità eterne e questo tra l'altro lo vedremo in seguito perché sarà un aspetto fondamentale nel dibattito che avrà come protagonista Cartesio in epoca moderna e a proposito appunto del citando brevemente del rapporto tra l'onipotenza e la verità Sant'Agostino sta in pratica spiegando che abolire un evento passato cioè un evento che si è già verificato sarebbe appunto proprio come rendere falso qualcosa che ormai è stabilito come vero proprio perché quell'evento una volta accaduto si è come si suol dire verificato è diventato vero quindi l'azione di Dio sarebbe in fondo falsificare qualcosa di vero per il in virtù stesso di ciò per cui tale fatto è vero e quindi Agostino dice questo implicherebbe una contraddizione a questa posizione di Sant'Agostino viene affiancata proprio per invocare il principio di autorità in maniera molto forte la citazione aristotelica Aristotele nell'Etica Nicomachea dice non può mai essere oggetto di scelta il passato per esempio nessuno può scegliere di aver saccheggiato Troia giacché non si delibera sul passato ma sul futuro e sul contingente mentre il passato non può non essere stato perciò ha ragione Agatone che di questa sola possibilità anche Dio rimane privo rendere non fatto ciò che è stato fatto Aristotele qui riprende in qualche modo la tesi logica che un evento ormai accaduto ormai non è più nella non appartiene più alla sfera del contingente quindi è qualcosa su cui non si può più deliberare non si può più apporre modifiche e quindi è in sintonia con anche con la citazione agostiniana in un caso l'obiettore le pone accanto le pone insieme dunque riassumendo la posizione dell'obiettore il suo scopo è quello di dimostrare che Dio non può fare ciò che è impossibile per sé in natura e per conseguire questo scopo svolge un ragionamento che inizialmente si basa su una distinzione cioè distingue l'impossibilità in due livelli il livello di impossibilità intrinseca e necessaria e il livello di impossibilità estrinseca e accidentale dopodiché annovera l'abolizione del passato di un evento ormai accaduto tra le impossibilità di tipo accidentale e quindi conclude che a maggior ragione siccome Dio non può abolire il passato anche viste le autoritas citate che è un'impossibilità solo accidentale ripeto a maggior ragione non potrà sovvertire l'ordine naturale che è considerato invece un'impossibilità non più solo accidentale ma veramente intrinseca necessaria un'impossibilità in sé qual è la risposta che dà Sant'Ommaso la leggiamo direttamente dal testo al nonno argomento si risponde dicendo che è accidentalmente impossibile che Socrate non abbia corso se di fatto ha corso poiché per Socrate correre o non correre di per sé cosa contingente ma per il fatto dell'implicazione che ciò che è stato non sia stato diviene impossibile in sé stesso e perciò si dice impossibile per accidents come se accadesse attraverso qualche circostanza avventizia che è impossibile in sé stessa e ciò implica contraddizione dire infatti che qualcosa è stato e non è stato è contraddittorio e questo sarebbe il caso qualora il passato non fosse mai stato quindi qual è la risposta data da San Tommaso il dottore Angelico in fondo accoglie la distinzione operata dall'obiettore tra un'impossibilità di tipo accidentale e un'impossibilità in sé ma la precisa la precisa con una constatazione infatti se è vero che un evento storico in quanto tale è contingente ad esempio che Socrate corra o non corra è del tutto accidentale la cosa una sua decisione arbitraria tale evento smette di essere contingente e diventa necessario a causa di un vincolo imposto da una legge logica quindi il fatto che Socrate corra o non corra ripeto è una decisione che spetta Socrate ed è sua avventizia accidentale arbitraria però l'alternativa logica tra correre e stare seduto tra correre e non correre è un'alternativa che non è più semplicemente accidentale è anzi assolutamente necessaria implica un out-out che vincola Socrate tale per cui nel momento in cui decide di compiere l'una a non attuare a non poter compiere l'altra e questo chiaramente vale a maggior ragione per un evento che è già trascorso che è già accaduto cioè anche se in passato nel momento in cui l'azione si stava svolgendo Socrate poteva decidere se correre o se non correre una volta che quella scelta è stata presa e che quell'evento è accaduto esso diventa automaticamente qualcosa di necessario e di ineliminabile che implica un'impossibilità in se stessa quindi la precisazione che fa Sant'Ommaso inerisce più alla forma dell'obiezione che non al contenuto di quello che sta dicendo l'obiettore quindi con la sua risposta a Sant'Ommaso non fa altro che specificare che l'azione di abolire il passato da un punto di vista logico non implica un'impossibilità di tipo accidentale come credeva il suo obiettore ma implica un'impossibilità di tipo necessario e intrinseco quindi anche se apparentemente formalmente Sant'Ommaso sembra opporsi al suo obiettore al suo interlocutore dialettico di fatto gli sta dando almeno parzialmente ragione cioè Dio non può abolire il passato quindi implicitamente accetto o quantomeno non confuta pienamente la vera conclusione a cui mirava il suo obiettore e cioè che Dio non può fare ciò che è impossibile per sé in natura infatti spostando semplicemente l'abolizione del passato da un'impossibilità per accidents a un'impossibilità secundum se ipsum quindi di fatto da un fatto contingente a un fatto necessario la Quinate ha operato una precisazione che rimane comunque in accordo con l'obiettivo principale cui mirava il suo interlocutore infatti questi dichiarava che se l'impossibilità di abolire il passato è un'impossibilità di tipo accidentale allora a maggior ragione non potrà compiere un'impossibilità più sostanziale un'impossibilità di tipo intrinseco e necessario però che l'abolire il passato l'azione di abolire il passato sia accidentale o sia necessario in fondo cambia poco cioè al massimo viene tolto quel rafforzativo di un a maggior ragione ma resta comunque qualcosa di impossibile che quindi esula dall'ambito dalla sfera di competenze del potere divino riassumendo quindi Sant'Omaso si trova in una condizione un po' ambivalente per cui mentre in risposta al primo argomento aveva esplicitamente affermato che Dio è superiore alla natura e che anzi spesso opera contro il corso naturale della natura e quindi che per Dio sono possibili anche quelle cose impossibili alla natura adesso in risposta al nonno argomento accetta l'opinione che Dio non possa modificare il passato e quindi implicitamente non confuta in pieno la posizione di coloro che intendevano limitare il potere di Dio entro quello naturale quindi cosa intende dire Sant'Omaso qual è in fondo il suo pensiero in pratica nella visione tomistica l'onipotenza divina non è vincolata dalle leggi fisiche ma solo dalle leggi logiche e quindi Dio non può compiere alcune azioni contrarie al corso naturale solo nella misura in cui queste azioni non stanno violando soltanto una legge fisica ma anche una legge logica nella fattispecie il principio di non contraddizione cioè compiere contemporaneamente due azioni che sono antitetiche correre e non correre contemporaneamente quindi Sant'Omaso in questo caso ha semplicemente precisato come in alcune situazioni in alcuni contesti la fattispecie il rapporto tra Dio e il tempo l'abolizione di un fatto passato quell'azione che si vuole ascrivere a Dio o al potere di Dio non è non implica semplicemente una violazione delle leggi fisiche ma implica anche una violazione delle leggi logiche è una duplice violazione in cui in quel caso vanno a coincidere ed è proprio in questo in questa situazione quando si verificano questi casi che Tommaso ritiene impossibile una violazione da parte di Dio però rimane ancora da esaminare un ultimo passo in cui San Tommaso ci ripropone ci propone una riflessione sul rapporto tra la potenza di Dio e il tempo perché sappiamo bene che nelle dispute medievali di fronte a un argomento di fronte a una questione c'erano coloro che propendevano per una tesi e quelli che propendevano per la tesi opposta c'erano come dire i due schieramenti le due fazioni e in una disputa venivano trattate venivano esaminate entrambe di fronte alla domanda Dio può fare qualcosa di impossibile alla natura nell'ordine naturale quindi ad esempio modificare il passato abolire un evento accaduto ecco abbiamo analizzato la tesi di quel filone che rispondeva negativamente ma c'è anche l'altra tesi c'è anche l'altro filone l'altra corrente ossia di coloro che invece sostengono che sì Dio può abolire il passato può cancellare dalla storia un evento accaduto e Sant'Omaso prende in considerazione e dà risposta anche a questa anche a questa fazione questo schieramento cominciando sempre dal depotenzia sempre all'articolo 3 della prima question facciamo ora riferimento al sesto argomento in contrario il set contra 6 che in qualche modo può essere letto come l'antitesi dialettica all'argomento 9 che abbiamo appena scorso quindi questa è la tesi dei sostenitori del fatto che Dio possa abolire il passato possa modificare un evento accaduto dicono questo come la cecità si oppone alla vista così la verginità si oppone al partorire ma Dio ha fatto sì che una vergine pur restando vergine partorisse e qui l'allusione a Maria è evidentissima per la stessa ragione può far sì che un cieco restando cieco veda e può far sì che l'affermazione e la negazione siano simultaneamente vere e di conseguenza può farlo per ogni cosa impossibile allora il mistero della verginità di Maria visitata non a caso dall'arcangelo Gabriele che significa potenza di Dio viene richiamato come esempio del limite che affligge qualsiasi ragionamento umano infatti in epoca medievale i logici i dialettici erano soliti formulare un sillogismo quando dovevano presentare un esempio di una verità apodittica assolutamente inconfutabile ed era questo sillogismo se ha partorito ha conosciuto uomo ora ha partorito dunque ha conosciuto uomo ed era un ragionamento considerato assolutamente pregnante da cui non si poteva scappare tra l'altro una discussione un ragionamento annoso che da alcuni era visto addirittura come una delle più pericolose obiezioni dialettiche contro la fede cristiana perché andava proprio a mirare il mistero dell'incarnazione nel grembo virginale di Maria e questo sillogismo è stato risolto da Tommaso in modo molto acuto con questa replica leggo San Tommaso al sesto argomento si risponde che la virginità non si oppone al partorire come la cecità si oppone alla vista ma si oppone all'accoppiamento col maschio senza il quale la natura rende impossibile il parto cosa che invece è perfettamente possibile a Dio quindi l'Aquinate risolve brillantemente questo insidioso sillogismo modificando nelle premesse cioè per i dialettici la virginità era contrapposta alla maternità invece San Tommaso cambia le premesse le dichiara errate cioè proprio indica un errore che sta alla radice del sillogismo stesso la virginità non viene più contrapposta alla maternità bensì all'accoppiamento e in questo modo tutte le pretese che i dialettici avanzavano con il loro sillogismo perfetto decadono però d'altra parte è doveroso far notare come l'interlocutore i sostenitori del fatto che Dio possa violare le leggi naturali e anche abolire un evento passato riportando l'esempio della virginità di Maria ha posto in gioco nell'argomento 6 una tesi estremamente audace cioè il mistero dell'incarnazione di Cristo viene portato come esempio per indicare che il potere di Dio può superare anche le leggi logiche violando ad esempio il principio di non contraddizione perché questi sostenitori di un'onipotenza in fondo assoluta di Dio concludono la loro argomentazione dicendo e quindi può far sì che l'affermazione e la negazione siano simultaneamente vere e di conseguenza Dio può farlo per ogni cosa impossibile un'affermazione molto forte e riportano non soltanto l'esempio della virginità di Maria ma anche un secondo esempio quello della cecità e della vista l'esempio del cieco che è anche esso molto significativo a sostegno della loro tesi perché non parla semplicemente del caso di un miracolo di un cieco che recupera la vista questo sarebbe una violazione delle leggi naturali però non di leggi logiche e quindi Sant'Omaso non avrebbe nessun problema ad accettare un miracolo del genere anzi sarebbe darebbe il suo pieno appoggio sarebbe una cosa considerata assolutamente accettabile assolutamente possibile per Dio ma appunto non è questo il caso non è questo quello che intendono dire loro loro stanno parlando di un cieco che restando cieco vede quindi in violazione sia delle leggi naturali sia delle leggi logiche e a proposito di ciò cioè a proposito del fatto che Dio non può far sì che uno sia insieme cieco e vedente sia contemporaneamente cieco e vedente posso riportare l'esempio di un miracolo che Sant'Omaso chiaramente non poteva conoscere visto che risale al nostro secolo ma che risulta essere particolarmente significativo in questo contesto perché guarda caso riattualizza un dibattito avvenuto secoli e secoli prima e è questo uno dei più noti miracoli ottenuti dalla preghiera di padre Pio è la guarigione di Gemma di Giorgi ella era nata irrimediabilmente cieca perché i suoi occhi erano senza pupille dopo aver fatto la comunione dalla mano di padre Pio il 18 giugno 1947 ella recuperò improvvisamente la vista ma cosa incredibile i suoi occhi rimasero senza pupille e il fatto era doppiamente prodigioso quattro mesi dopo un famoso oculista di Perugia dottor Caramazza sottopose la fanciulla a un minuzioso esame e concluse Costei non può vedere e invece Gemma vedeva e ha continuato a vedere per tutta la vita citato da un testo del cardinale Angelo Comastri quindi si vede come in fondo il caso di Gemma di Giorgi molto celebre molto discusso proprio per via della sua paradossalità in qualche modo riapre il dibattito che in fondo Tommaso in quel periodo considerava chiuso cioè l'idea che Dio potesse sì violare le leggi naturali le leggi fisiche del mondo materiale a patto che non venissero però anche violate delle leggi logiche perché questo caso particolare quantomeno prospetta lo scorcio di una possibilità di una duplice violazione cioè qualcosa che non è semplicemente straordinario a livello fisico ma è addirittura impensabile inconcepibile cioè una cosa doppiamente prodigiosa e quindi in questo senso la discussione è ancora aperta può essere sviluppata ed è quello che vedremo appunto nella lezione successiva dove l'idea di un'onnipotenza assoluta di Dio che va al di là anche della ragione umana che va al di là delle più elementari regole di pensiero le leggi della logica i principi normativi del pensare Dio può superarlo con la sua onnipotenza lo vedremo appunto con Cartesio e con un altro autore contemporaneo di un'annipotenza di un'annipotenza